Tranquillo, vai Simo. Simo allora, non finisce la spinta fino in fondo e sta sempre attaccato all'acqua. Non vuole appoggiarsi all'acqua. Le gambe ci siamo bene, le bolle ci siamo bene. La respirazione c'è anche. Vi nozzi fuori. Anche te più o meno sempre. Allora, come si fa? Aspigliata, la spinta è un po' di sottosina. Non è l'acqua. 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 Quindi, così, vedi come? Vedi come la spalla? Dove scegliere anche quella in pace? Quello che sta facendo la spalla, va a ritirsi in un po' di sottosina. la pausa troppo giù vedi? vediamo che è lento scogliato la mano entra ma giù risate sull'acqua ma se non è fedata io ho una testa non è un po' più qui non respirare tanto la pausa se non è un po' più quindi guarda vediamo adesso facciamo la pausa l'ultimo la pausa la pausa vediamo vai simon ok si si ok hai visto come cambia? da così a così cambia hai visto quanto scivoli con la bracciata? falla subito che te la ricordi vai pausa 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 avanti vedi ma prima l'hai fatta bene adesso non te la sei ricordata vabbè dai non te la sei non te la sei non te la sei non te la sei non te la sei